Spesso riuscire a non pagare un debito rappresenta un problema che avvelena tutta una vita, ma la possibilità di ritrovare un po' di serenità e ricominciare da capo senza pensieri esiste, grazie alla possibilità di intraprendere un percorso di estinzione della somma dovuta facilitato da una convenzione che è stata sottoscritta dall'amministrazione comunale e dall'Associazione Nazionale i diritti dei debitori, rappresentata a livello locale dalla sezione Vitruvio. Il percorso comprende il dovere, in caso di inadempienza da parte del debitore, di mettere a disposizione tutto quello che ha, salvaguardando però, sotto legida del Tribunale, il necessario per vivere. Le persone che vivono purtroppo una situazione debitoria o di fallimenti personali, che da un punto di vista economico o aziendali diventano persone che non riescono comunque a farsi carico dei tributi a partire da quelli locali, che sono comunque un obbligo di legge. Essendo comunque un'entrata al tributo locale che serve per comunque costituire, per finanziare anche la spesa, il sistema di bilancio economico dell'ente pubblico prevede un cuscinetto emergenziale che si chiama Fondo Crediti di Dubbia Esegibilità, che per il Comune ha in tutti gli effetti una spesa che va nel bilancio di previsione ogni anno inserita e che per quanto riguarda i tributi locali si aggira ai 2 milioni e 9. Capite che è una spesa molto importante per il Comune e quindi questo vuol dire che creare condizioni che aiutino le persone a uscire dalle proprie difficoltà economiche permette anche di aiutare la finanza pubblica. Riusciremo comunque ad essere tutti in una situazione di maggiore equilibrio e possiamo comunque anche vivere più serenamente le nostre dinamiche personali e pubbliche. Avviamo una collaborazione, una collaborazione non solo per promuovere questi strumenti e quindi cercare di trovare nuove opzioni, nuove possibilità per sostenere le persone che si trovano in difficoltà economica ma soprattutto è anche un'integrazione al lavoro che il segretariato sociale del nostro servizio fa perché mettono a disposizione anche un supporto psicologico gratuito e questo chiaramente è un modo per approcciarsi a un problema che è quello di affrontare le crisi da liquidità finanziaria delle persone offrendo un'opzione in più che va verso una definizione di un approccio più integrato e sensibile alle esigenze della comunità e quindi accompagnare le persone verso percorsi di maggior autonomia e di inclusione sociale facendoli uscire da un momento, da un periodo di crisi finanziaria. Avvocato, quali sono le modalità dunque per accedere a questo servizio che è al paricentro per quanto riguarda Fano? Allora, proprio tramite beneficio di questa convenzione che abbiamo fatto con il Comune possiamo dare un primo colloquio, quindi noi anche tutte le comunicazioni, quindi anche tutte le informazioni direttamente con tutti i cittadini in cui si trovano in questa situazione di sovraindebitamento sia che siano proprio dei consumatori, sia che siano delle piccole imprese e così potremo anche orientarle su quale sia anche la strategia migliore insomma, se possono anche i requisiti per accedere. Al paricentro già siamo operativi insomma con lo sportello, già anche con altre attività questa sarà proprio dedicata esclusivamente al sovraindebitamento adesso vedremo se dare una o due giornate mensili e dopodiché vedremo poi con l'OCC come organizzarci.